prossimo un'altra e ultima domanda per oggi da parte di virgilio pace un grande abbraccio a tutti i miei fratelli ho una domanda al fratello giuseppe alcune volte non riesco ad andare in chiesa mi capita di fare tardi sul lavoro e mi chiamano al telefonino di non abbandonare la comune adunanza in ebrei 10 24 e 25 puoi darmi una spiegazione poiché io non ho mai abbandonato il mio signore gesù cristo che l'amo di più di tutto e mi sento male quando dicono queste cose sì mi è capitato in quattro anni sì o no tre volte che ho mancato la chiesa pace e che dio vi benedica vi voglio bene scusa devo dire io non andare alle riunioni no devi dargli una spiegazione dice beh io nemmeno posso dirgli non andare se tu appartieni a una chiesa che sia testa medicea o sia cattolica evangelica o la nostra quella chiesa che tu appartieni e deve essere fedele scusa cioè noi qui ti aspettiamo sabato e domenica se non ci sei che stai lavorando ascolta la differita la registrazione è così che funziona è quello che dice lui mi è capitato in quattro anni di mancare tre volte e mi chiamano e mi dicono di non abbandonare la adunanza ma guarda di solito lui si riferisce a chiese che si riuniscono negli edifici io non ci credo in questo però una chiesa che ci crede quella sua fede lo deve fare e se tu appartieni a una chiesa che loro credano nell'edificio io non ci credo e allora se tu ci credi devi seguirla devi seguire Romani 14 e 21 dice tutto ciò che non è dalla fede è peccato se questo per se tu sei il testemone di Geova sia un mormone adesso scusate scusate se difendo mormoni del testemone di Geova tra i quali ho anche degli amici e si li difendo perché hanno ragione se tu appartieni che sei il testemone di Geova questa è la tua fede la uso come esempio poi tu puoi essere presbiteriano non lo so può essere la nostra chiesa se tu appartieni a una chiesa devi seguire le sue regole capito le testemone di Geova non credono alla trasfusione di sangue questo bambino sta morendo fallo morire questa è la loro fede è giusto no è sbagliato sbagliatissimo però allora esce dalla chiesa esce dalla religione scusa ma fin quando rimani lì devi seguire sì quindi tu dici se appartieni a una chiesa devi sottometterti ubbidire e fare le cose secondo la chiesa come la chiesa ti insegna perché tu hai deciso di appartenere lì però non ti sembra un po' esagerato se uno deve lavorare quel giorno e non può congregare che già lo chiamano per dirgli queste cose per esempio ti faccio un esempio qui nella nostra chiesa la settimana scorsa un fratello ha scritto fratello Giuseppe ho peccato durante la diretta radio ti ascoltavo e mi sono addormentato ho peccato una multa subito a lavare i piatti e tu le hai risposto così ma come penitenza non dormi due giorni e fai tre ave marie cioè tu le hai risposto con una barzelletta perché non è una cosa che dobbiamo dargli scritture per pentirsi cioè non ti sembra che povero Virgilio anche lui vorrebbe qualcuno più rilassato che non esagera se lui manca un'adunanza cioè fratello Giuseppe è famoso perché a lui non gli piace condannare la gente neanche le prostitute condanne basta che si pentano cioè questo non vuol dire che devo perdonare tutto accettare tutto e che tutti la fanno franca adesso no 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 perché io anche io ho i miei limiti e rimaniamo nelle scritture e sono le scritture d'accordo? e quindi il fratello che si addormenta cosa devo fare insomma quando distribuiremo i cioccolatini stasera lui il cioccolatino non lo mangia ma quali cioccolatini neanche a me me li date e sono stata sveglia ho detto quattro ave maria per fare una battuta logica sì certo e per cui si prega Dio Yahweh nel nome di Gesù Cristo e quindi torniamo al punto questo fratello quindi lui vuole sapere se diciamo poi lui sta parlando della domenica qui no? non lo so non dice in che giorno beh la comune adunanza qui oggi diciamo la regola è la comune adunanza la domenica va bene? ma sia pure mercoledì sera quello che è se tu appartieni a una chiesa X va bene e c'è la comune adunanza tutte le domeniche alle 10 o tutte le mercoledie alle 8 tu non puoi prendere impegni perché tu sei già impegnato con il Signore capito? e questo il fatto di prendere sotto gamba questa familiarità troppa confidenza col Signore Signore lo so che devi venire adorarti però sai mi hai chiamato al telefono io devo andare in fondo anche a guadagnare soldi non è che funziona così nel Vecchio Testamento venivi lapidato sì perché a tutto onesto in Esodo capitolo 15 c'era uno che di sabato ha deciso di raccogliere quattro pezzi di legna per scaldare per fare le caldarroste scaldare le castagne non so cosa sto facendo e lo hanno lapidato lapidato perché ha raccolto quattro pezzi di legna Esodo capitolo 15 quindi dipende dalla tua fede tutto ciò che non è della tua fede è peccato ecco quindi io dico il tuo pastore se tu appartiene alla chiesa c'è un pastore e che non conosco non ho piacere di conoscerlo Dio lo benedica devi sottometterti è la tua chiesa se tu fossi la mia chiesa va bene io ti direi sottomettiti all'autorità della mia chiesa che noi ci raduniamo sabato e domenica alle dirette tu lavori il sabato non c'è nessun problema ascolta la differita sì però se non ascolti neanche quella e allora sei fuori collegamento sì anche perché se lavori tutta la settimana ti serve un giorno solo per te e Dio per riempirti spiritualmente per nutrirti spiritualmente non puoi continuare a lavorare lavorare nel mondo poi il mondo ti riempie con cose negative ti serve quei minuti quel momento con Gesù dove ti pulisci e ti riempi con la parola e questo devi farlo insieme alla tua chiesa ovunque appartieni sì il telefonino suona e che ne sai se quella telefonata ti viene da Dio o dal diavolo il fatto che suona non vuoi dire niente che ti dico vieni qua ho bisogno di te sì ma Dio ho bisogno di te il primo debito è col Signore il primo conto da pagare il lavoro quello che fai per il Signore che vai a evangelizzare o che dà la decima o quello che è se il Signore è il tuo primo debitore il Signore viene al primo posto io l'ho fatto tutta la mia vita e mi sono sempre trovato bene quando ho avuto bisogno il Signore era là però se quando il Signore ha bisogno e tu non ci sei mai avrai bisogno del Signore e Lui non c'è metterai quello che è seminato va bene adesso non lo so che chiesa sei se è una chiesa con i fiocchi o senza fiocchi no non lo sappiamo chiesa di Viladella fino a chiesa dell'Odicea non lo so e non lo voglio sapere però le regole sono giuste anche se tu appartenesti alle chiese dell'Odicea dici questa chiesa è la mia ma è l'Odicea sì però è la mia e allora ti sottometti all'Odicea a posto? sì sì a posto ti voglio bene fratello però non è che posso cambiare il Vangelo per tutti i costi e farti contento va bene quando predichiamo noi le orecchie per grazie di Dio cerchiamo di non solleticarle è importante questa risposta perché credo che specialmente noi nella Chiesa dello Spirito qui crediamo tanto nella libertà dello Spirito e fare le cose secondo come tu personalmente senti che lo Spirito Santo ti guida e fare le cose secondo la tua fede non degli altri e quindi crediamo in questa libertà ma attenzione che non possiamo fare quello che vogliamo quello che pensiamo noi con la mente carnale ci sono alcune scritture che sono la guida davanti a noi la luce davanti a noi che dobbiamo seguire una volta c'erano gli orologi una volta ai miei tempi cioè ti parlo del millennio passato ti parlo e c'erano i rubini dentro i orologi li vendevano c'erano 17 rubini 21 rubini e ogni rubino aumentava il valore del dell'orologio e allora i nostri noi siamo come un orologio spiritualmente e dentro di noi abbiamo dei rubini scritture miliari passaggi miliari che hanno cambiato la nostra vita sono nato di nuovo un rubino una roccia il giudice dello Spirito Santo battesimo un'altra roccia ho deciso di essere un cristiano di Filadelfia non dell'Odicea io vado a testimoniare ogni volta che posso altro rubino io amo mia moglie che lo meritano di solito lo meritano però anche se non lo meritano io l'amo lo stesso altro rubino io adorò tutto il mio cuore non la metà un rubino capisce quelli sono e diciamo i talenti che davanti a Dio diranno wow gli angeli diranno wow wow come in italiano wow wow accipicchia caspita come come perdindirindina urca e questo è in italiano questo è italiano è così che si dice wow in italiano la peppa in inglese wow vado avanti vado avanti secondo me che non faccio pagare per questi insegnamenti grazie guarda dammi la scrittura va sì Romani 14.5 arrivata Dora sì Dora è sempre occupata ha fatto un viaggio è tornato ieri Dora viaggio quanti chilometri back and forth yes 1600 1600 Apollo Nord sei una e qui le distanze sono grandi deve trovare qualcuno qui e la storia è così avanti sì grazie signora 1600 e sto pensando ci sono questi aerei che spruzzano se è disturbante se questi quei aerei che sono grandi ti conviene a fare autostop con una di quelle ah ok c'è un posto qua vicino che ce li ha si conviene Romani 14.5 5 Romani 14.5 uno stima un giorno più di un altro l'altro stima tutti i giorni uguali sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente Giovanni 14.5 quindi possiamo adorare Dio tutte le domeniche possiamo adorarlo tutti i sabati come gli avventisti settimo giorno per me non fa differenza basta che adori Dio però non puoi dire oggi lo adoro la domenica e la settimana prossima lo adoro quando mi pare devi decidere qual è la tua non puoi cambiare in base alla convenienza a meno che tu dici no io adoro Dio quando mi viene più opportuno però con tutto il cuore per ogni settimana le dico un giorno un altro dice no io lo adoro tutti i giorni tutti i giorni passo tempo nella parola memorizzare la parola adorare il Signore tutti i giorni perché è così che se scappo un giorno che se scappo la mia domenica poi rimango in mezzo al fiume e tutta la settimana invece no tutti i giorni mi assicuro che tengo sto al passo tenere il passo col tuo pelotone ecco quindi però devi decidere non puoi cambiare ogni settimana e poi lo perdi d'accordo? se tu adori il Signore un giorno alla settimana e non tutti i giorni e scappi un giorno hai perso due settimane 15 giorni e hai passato solo un giorno è poco e poi diventi capito una Marta lavoro 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 e non c'è comunione con Gesù Gesù non ti parla non è che non ti parla tu non l'ascolti quindi decidete se siete un cristiano di tutti i giorni cioè che adorate tutti i giorni o che adorate specialmente un giorno alla settimana avventisti il sabato quell'altro la domenica quell'altro tutti i giorni veramente a me mi viene più comodo tutti i giorni perché chi ce l'ha un giorno da sotto un albero capito? io sono un cristiano di tutti i giorni però se te un giorno non adori il Signore non ascolti il Signore non passi tempo col Signore e poi diventi come un ramo rinsecchito attenzione diventi una Marta Marta che Gesù ti dirà Marta Marta Marturot Marta tu ti affatichi attraverso su tante cose ma solo una cosa è necessaria e Marta appoggia la pentola e dice quale? quella che Maria ha scelto e Maria lì è seduta al suolo occhi fissi su Gesù è estasiata in estasi e allora Marta avrà appoggiato le padele e ha detto ok va bene allora mi siedo anch'io perché adesso questa storia qui la predicheranno per sempre che figura ci faccio poi Marta è la donna di Dio quindi decidete come volete adorare il Signore ma adoratelo se tu appartieni a una chiesa che la adorano come gli avventisti oppure come i cattolici o i protestanti la domenica sii fedele va d'accordo noi abbiamo qui noi abbiamo un servizio alla chiesa allo spirito tutti i sabbi la domenica siamo a servire i fratelli non posso sgarrare un giorno se no mi iscrivano no tu non puoi sgarrare no capito in barella ma devo andare in barella mezzo morto mezzo morto e non è così male capito ma è successo all'ospedale eh sì è vero è vero ero lì con il registratore all'ospedale è vero ricordi io ero la mezza voce sì 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 è capitato anche di quello all'ospedale dovevo tutto registrare perché i fratelli sono lì eh sì sai quando la chioccia vengono uccellini i pulcini devono mangiare che mi interessa che gli interessa i pulcini che vede Giuseppe all'ospedale deve deve insegnare il mio lavoro eh sì d'accordo sì e come hai detto se un giorno non possono seguire il messaggio il prossimo giorno lo trovano nella replica o su YouTube e possono catch up il catch up devi riprendere va bene non è che non è che stiamo chiedendo così tanto alleluia grazie Gesù io se vuoi passo e chiudo sì sì possiamo chiudere qui ci fermiamo per oggi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti